Sugli stupri all'ordine del giorno, sulla violenza sessuale e la carenza educativa dei giovani, si sono espresse diverse personalità del mondo della politica, ma anche dello spettacolo e del web. Il primo a esporre la propria dura opinione sui social è stato il cantante Ermalmeta, che ha dichiarato «E' evidente che il sistema educativo ha fallito, servono punizioni esemplari e certezze della pena». Virale è stato anche il video con le dichiarazioni della docente palermitana Giovanna Corrau, che ha puntato il dito contro tutti. L'emergenza sociale riguarda principalmente l'emergenza educativa, quindi siete, siamo un branco di falliti. Perché se succedono questi episodi, tutti siamo falliti. Tu non funzioni, non funzioni come padre, non funzioni come madre, non funzioni come struttura sociale, non funzioni come professore, non funzioni come maestro, non funzionate neanche come nonni. A me dispiace, perché io li adoro i nonni. Se non ci fossero i nonni, assuravi che avessimo calato a funno, chissà quanto. Però siamo falliti. In campo politico sono intervenuti, tra gli altri, il ministro Valditara, la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, la ministra per le pari opportunità della famiglia Eugenia Maria Roccella e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In particolare, Valditara ha affermato avviare in tutte le scuole italiane una serie di programmi per affermare la cultura del rispetto. Roccella ha aggiunto opposto al problema dell'accesso precoce a una pornografia che peraltro è sempre più violente e degradante. Un sostegno tanto inatteso quanto apprezzato è arrivato da Rocco Siffredi. Infine, Piantedosi ha affermato deve interessare di più l'educazione dei ragazzi, è un compito della scuola. Molto profonda è stata anche la circolare che il preside Paolo Fasce dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli ha scritto rivolgendosi alle famiglie, al personale e agli studenti della sua scuola. Ciò che mi aspetto dagli studenti dell'Istituto Nautico è che svolgano attivamente il delicato ruolo di bonificatori. Stefania Auci, insegnante e autrice del successo mondiale Leone di Sicilia, ha dichiarato strumenti culturali minimi che sembrano diventati un lusso e che invece dovrebbero essere dati di concerto da famiglia, scuola e società. E pungente è stata anche la cantante Fiorella Mannoia che in una conferenza stampa ha dichiarato forse quelle chat dovrebbero essere portate nelle scuole. Non poteva esimersi dal commentare ai fatti nemmeno lo psichiatra Paolo Crepè con un'accusa ai genitori. Genitori servi dei propri figli, non hanno voglia di contrastarli. Porterei la maggiore età a 16 anni. A intervenire anche il cappellano del carcere minorile Beccaria e docente alla Cattolica, Don Claudio Burgio. Anche la scuola non aiuta, visto che tutt'al più si limita a qualche corso ripetitivo e inutile. Infine, non si è tirata indietro nemmeno la cantante Iva Zanicchi. Più che ai giovani, voglio rivolgermi con la preghiera e la supplica ai genitori di farsi un esame di coscienza. Credo che purtroppo spesso non siano capaci di essere una guida per i propri figli. Grazie. Grazie. Grazie.